dai dai non ci posso vedere ma come cazzo si fa? eh che cazzo però è forco 2 mamma mia guarda vai in giro vai in giro vai sì vai giro vai 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 cannaggia no giro sì giro sì il primo con il secondo non gliene fa modre il primo e il secondo non gliene fa modre è raccoli e il pali su questa azione finisce il primo tempo con gli applausi bellissimo e tu lì non puoi perdere tu due questo è il mio di re c'è la papua per felipetto so che sei li porto benissimo croce a felipan felipetto felipetto iusaini manita manita luis alberto il mago sei a unione sotto tutti i punti di vista nella gestione della palla finisce adesso Lazio Spezza e storia esagerata